Allora, è vero? È vero cosa? Voi che cosa ne pensate? Questo è in assoluto l'evento più clamoroso che si sia mai verificato in questa scuola. Signori, Debbie Spann è realmente un autentico, vero vampiro! Psss! Ti capitano spesso queste cose? Ogni volta che cambi scuola ti prendono per una creatura soprannaturale. Ti è mai successo di essere preso per un supereroe? Perché non potrei essere davvero un vampiro? Tu dimostri 14 anni, non 400. Vivi alla luce del giorno in assoluto conflitto con tutte le più accreditate convinzioni sulla materia. E sei del tutto privo di stile. Dimenticavo, i vampiri non esistono. Niente paura. Non tradirò il tuo segreto. E perché? Perché stai facendo comportare tutti da idioti. E questa cosa mi fa impazzire. Però, piccolo consiglio. Ci vorrà un grande impegno per tenere in piedi la commedia. Credi davvero di essere un giovane vampiro? Cosa? 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 Non funziona. No, no. No, non ci siamo. Serve aiuto Dracula. Riccola.